Penso che sia nella direzione di quanto ha già fatto in passato, penso per esempio a quello che ha fatto riguardo al Sudan e al Sud Sudan o alla Colombia, cioè quello di fare lui un primo passo così da muovere i cuori delle persone, di coloro che sono coinvolti in un determinato conflitto, oggi riguarda Ucraina e Russia, a cambiare le proprie posizioni, perlomeno ad essere aperti a una possibilità di risolvere una situazione non in termini conflittuali, non attraverso una guerra, ma attraverso un dialogo.